Quando proposi a Cecchicori di fare un thriller psicologico che poi diventava un noir in certi aspetti, in certi momenti, lui mi fu d'accordo e ci finanziò l'inizio di questa sceneggiatura, a me e a Gianni Romoli. Io lo doveva fare per contratto perché avevo per contratto un mensile per tre anni con lui dove non potevo fare nessuna cosa con nessun altro produttore, dovevo lavorare solo per lui. Questo ha portato alla scrittura in breve tempo, due tre mesi, di catacombe, anzi catacumba alla latina proprio, ad catacumbas proprio il termine latino, con il grande Gianni Romoli, grande amico, bravissimo sceneggiatore, ora altrettanto bravissimo produttore e lavorammo per cinque, quattro, cinque mesi, tre, quattro mesi, ecco, e alla fine avemmo l'approvazione di Cecchicori. Si doveva trovare un produttore da parte di Cecchicori esecutivo, non finanziario perché finanziava tutto la Cecchicori Group e fu individuato in Dario Argento. Questo spiega perché lui, Dario Argento, quando legge la sceneggiatura di Catacombe e chiede di modificarla tutta, riscrivendo completamente il film e trasformandolo in la setta, che era la stessa idea poi che c'era in Catacombe, perché c'era una setta che operava azioni macabre, hai capito? E quando a un certo punto ci fa riscrivere la scena, la sceneggiatura, tutto il film, noi ci rendiamo conto che lui improvvisamente si preoccupa del fatto che forse non ci avrebbe guadagnato molto con il finanziamento che gli dava Cecchicori, hai capito? Da tutta questa operazione. Gli interessava soprattutto il lato economico, perché io in fondo, in fondo ero un regista che aveva fatto un film solo, anche se di grande successo, quindi non è che avessi dietro un mercato di chissà che cosa, quindi non faceva molto affidamento sulle mie qualità, probabilmente anche visionarie, perché non mi conosceva, mi conosceva come regista di commedie e come buon documentarista con il quale avevo vinto Nassi d'Argento, tutti i premi possibili nel mondo, però non ci credeva, non ci credeva e quindi pensava al guadagno, e siccome la cosa non lo convinceva, il lato economico di questa operazione non lo convinceva, ha fatto saltare tutto trasformando la sceneggiatura mia di Gianni Romoli e sua, perché anche lui ha collaborato, in un terzo film che fu La Setta, diretto da Michele Soavi, che però sostanzialmente riproduce lo schema del mio film.